Perchè mi dormentate? Perchè mi dormo? Poco fa, quando siamo entrati, ho visto un assagomaniere a cercare, un assagomaniere a farmi spaventare. Perchè? 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 Come vi stavo dicendo, stanno succedendo cose strane. Ah, nuovamente l'attacca! Ragazzi, sono i ragazzi che parlano! Ma che c'è adesso? Ma che c'è? Ehi, ma che c'è? Ora mi chiedete? Non preoccuparti, non ti agitare!